Per dire sì lo voglio, ti basta entrare da Dotolo Mobili. Troverai così tante proposte dedicate ai futuri sposi da farti innamorare. Per la prima volta la Promo Sposaci ti offre il top delle aziende dell'arredo. Scavolini, Stosa, Lube, Mobile Touri e ancora Le Fablie, Accademia del Mobile, Calligaris, Favero, Tommasella e tanti altri. Perché amare Dotolo Mobili è semplice. Vieni a trovarci a Passo di Milabella, Benevento, Foggia, Bellizzi di Salerno, Teverola Caserta. La Promo Sposaci ti aspetta con pagamenti fino a 4 anni e interessi zero. Prima rata 4 mesi, scade il 31 marzo.